Buongiorno a tutti, sono Jacopo Zonzini e sono qui per raccontarvi una vera e propria rivoluzione di Domino Automatic. Questo modello rappresenta infatti il punto di riferimento mondiale nei saliscale per trasporto pesante ed è apprezzato in tantissimi paesi nel mondo. Se utilizzato correttamente non comporta rischi particolari per l'operatore, tuttavia sull'ultimo gradino della scala sono necessarie più attenzione e dimestichezza. Solo noi che abbiamo inventato Domino Automatic potevamo renderlo ancora più semplice per garantire facilità d'uso anche ai meno esperti. E' nato così Domino Plasmoid con stabilizzazione incorporata. Quest'ultimo modello, grazie a un nuovo braccio stabilizzante che aumenta la sicurezza sull'ultimo gradino sia in salita che in discesa, è utilizzabile davvero da tutti, anche da chi è meno abituato all'utilizzo di strumenti professionali. E' questa la vera e propria innovazione. A fine scala, sull'ultimo gradino, all'operatore basta schiacciare il pussante per far uscire la stabilizzazione, la quale è dotata di sensori che rilevano il piano e bloccano e riattivano automaticamente il moto della stabilizzazione. Cosa rimane da fare all'operatore? Praticamente nulla, se non attivare la stabilizzazione nel momento opportuno, ovvero dove sono posizionati i marcatori laterali sul dispositivo e inditraggiare con il joystick fino all'interno del pianerottolo. Ma il braccio stabilizzante non è l'unica novità. Domino Plasmoid dispone della calibrazione del carico, ovvero un software evolutissimo che riconosce il peso e la forma del carico trasportato, calcolando così l'angolo di inclinazione ottimale per rendere la percorrenza sulla scala semplicissima. Inoltre, rispetto al modello precedente, la nuova generazione di Domino Plasmoid ha i cingoli maggiorati per avere maggiore grip nelle situazioni in cui è richiesto e per resistere ancora più a lungo su superficie esterna. La speciale trazione permette a Domino Plasmoid di percorrere qualunque tipo di superficie, interna o esterna. E di affrontare ogni tipo di scala, inclusi quelli liquidali o gradini a piede d'oca. Domino Plasmoid con stabilizzazione. Ancora più affidabile, ancora più sicuro, ancora più semplice. Domino Plasmoid Domino Plasmoid